Il regalo di Giorgio Manetti Uomini e donne, Tina, Ida è la nuova gemma Il regalo di Giorgio Manetti Continua il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. . Nel corso della puntata del 12 aprile il cavaliere Tarantino ha ribaduto la volontà di interrompere la conoscenza per alcune incomprensioni con la dama. . Questultima, dopo aver parlato con Gianni Sperti, ha spiegato di voler provarci ancora mentre il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio. . Ida la ha raggiunto fuori per un nuovo chiarimento mentre Tina Cipollari ha battezzato la Platano come la nuova gemma. . Prosegue la conoscenza tra Cancelletto Giorgio Manetti ed Alessandra. . Questultima ha riferito di trovarsi bene con il Toscano. . . La prima volta siamo stati insieme a Verona per sette ore mentre la seconda volta sono andata a Firenze e c'era lui che mi aspettava sul binario. . . Tina ha interrotto il racconto ricordando i precedenti della Galgani con il gabbiano che ha sottolineato che è il minimo per una donna che viene ad accoglierti. . 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 Ha spiegato di aver comprato una borsa di pelle alla corteggiatrice. Su questo particolare è intervenuta la dama torinese spiegando che il cavaliere l'aveva regalata anche a lei. Manetti ha confermato ed ha precisato che, in una seconda occasione, si era anche inginocchiato per farle cambiare la borsa. Questo non lo ricordo, non l'ho voluta cambiare perché mi faceva tornare in mente un momento piacevole. È rimasto un cimelio. Grazie